ciao sono Leonardo Raso della LR Immobiliare oggi vi presento un interessante appartamento in Roma quartiere prima porta giustiniana esattamente in via piadena parliamo di un immobile ubicato al primo piano ma con affacci da secondo piano in una palazzina in cortina dotato di ascensore e senza servizio di portineria l'immobile è molto silenzioso e luminoso con ampie vedute nel verde grazie a tutti attraverso la porta blindata accediamo all'ampio salone all'americana dal quale è possibile accedere attraverso una grande porta finestra direttamente sul terrazzo di circa 36 metri quadri che risulta molto soleggiato e con ampie vedute nel verde grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sempre dal salone è possibile accedere alla cucina abitabile grazie a tutti Tramite un corridoio entriamo nella zona notte composta da una camera matrimoniale. Un primo bagno, una seconda camera. E' un altro bagno. Dalla camera matrimoniale è altresì possibile accedere al terrazzo che segue tutto il perimetro dell'appartamento. La parazione è stata edificata nel 2006 e risulta in ottimo stato di conservazione. Abbiamo visitato questo delizioso appartamento trilocale che volendo può anche essere trasformato in un quadrilocale. Ed è un immobile in un ottimo stato di conservazione con doppia esposizione. E' dotato di porta blindata, grate anti-intrusione, zanzariere, infissi in legno con vetro camera, aria condizionata ed è termo autonomo con caldaia a gas metano. L'immobile ha una rendita cadastrale di 1.099,37 centesimi e come pertinenze ha una cantina, un posto auto scoperto e un posto auto coperto in garage. Puoi vedere foto, video e planimetrie di questo interessante investimento immobiliare sul nostro sito www.lrimobiliareroma.it e su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.